Una bella suggestione, una bella proposta, mi piacerebbe molto da Presidente e anche da appassionato di montagna, devo dire, fare un incontro su cosa voglia dire programmare nuovi servizi riguardanti la montagna, tra l'altro c'è bisogno di una nuova legge sulla montagna che questo Paese, non solo la Regione, aspetta da troppo tempo.